Il racconto per immagini di quanto accaduto stamattina sul ponte nuovo a Bassano. La Mercedes procede verso Viale Vicenza. Il conducente, un 61enne di Cassola, preoccupato per un possibile controllo dei carabinieri che lo precedono in auto, cerca il portafoglio che teme di aver dimenticato, ma distraendosi finisce per tamponarli. L'appunto dei militari dal colpo rimbalza in avanti e investe due ragazze che in quel momento stavano attraversando sulle strisce pedonali. Alla fine i feriti sono quattro, le due giovani e i due carabinieri. Sul posto sono arrivate due ambulanze dal San Bassano che prestano le prime cure alle due 19enne investite e ai due militari. Poi tutti e quattro vengono condotti all'ospedale per ulteriori accertamenti. Le ragazze fortunatamente riportano solo alcune contusioni, mentre i carabinieri sono rimasti vittima di un colpo di frusta. Interrogato dalla polizia stradale sul posto per i rilievi, l'automobilista responsabile dell'incidente ha spiegato di non essersi accorto dello stop dei carabinieri perché appunto impegnato nella ricerca della patente nel cruscotto. La viabilità è rimasta bloccata per diverso tempo in entrambe le direzioni di marcia. Inevitabili, disagio al traffico, particolarmente intenso stamattina a Bassano anche per la Fiera Franca.